Croato, cercare sul secondo palo di H.T., di H.T., e poi Chiesa e lui ad aver segnato la seconda rete della Fiorentina, 2-0 per i viola, partita chiusa. Sì, partita chiusa, di H.T. qui ha preso il tempo giusto sul difensore affettuato, secondo me il pallone entrava in ugual modo, però Chiesa ha voluto mettere il sigillo finale in questa gara. Ha festeggiato tutta la panchina della Fiorentina, tutta in piedi, per dire finalmente le semifinali sono davvero a portata di mano, intanto c'è un altro ragazzo, Violas, che è pronto per entrare sul terreno di gioco, si tratta di Marco D'Abro, un altro 97. Ora, soltanto adesso, di H.T. festeggia con Federico Chiesa, se l'era un po' presa perché...